Buongiorno amici per questa sì una piccola e super previsione all'otto, continuate a portare il super e l'otto avanti e poi questa previsione è ristretta, numero 14 estratto sulla nazionale, buona fortuna a tutti e sperando che si presenta a primo colpo di gioco, amici di Youtube, se non si presenta un po' di colpi si porta avanti, bacioni e bye bye, ciao!